Grazie, buongiorno a tutti, grazie di aver accettato l'invito per fare questo punto della nostra conferenza di fine anno, che poi sarà anche una conferenza di fine mandato, perché in qualche maniera tireremo alcune somme della fine legislatura, che voglio iniziare nel consegnare, poi il dottor Bertini se non l'ha fatto lo farà, una cosa interessante, quella che è la media delle presenze dei consiglieri regionali dell'Umbria per i cinque anni, dal 2010 al 2014, è una media importante, dunque voglio ringraziare la partecipazione e la presenza di tutti i consiglieri regionali che comunque hanno in qualche maniera dato un sostegno e un contributo importante, anche con la presenza in consiglio, un atto dovuto, però ecco, credo che siano dei numeri che possano in qualche maniera essere interessanti rispetto alle alcune valutazioni sul piano politico. Poi vorrei con voi presentare un pochino tutte quelle che è stata l'attività di questi anni, con, troverete le 140 sedute d'Avola, le proposte di disegni di leggi, sia di iniziativa di giunta che iniziativa consigliare, le leggi approvate, abbiamo in qualche maniera, presentiamo a voi una sintesi di questi quattro anni pieni, di, dal 2010 al 2014, di questi quattro anni e mezzo in qualche maniera pieni di legislatura, dove troverete tutte, anche qua, le sedute di commissione, tutto quello che è stato fatto, le leggi importanti che sono state fatte, le leggi anche di razionalizzazione che noi abbiamo fatto, perché io lo vorrei ricordare, non l'ho mai fatto in questi anni, perché ho sempre preferito far parlare i fatti, però, insomma, ci tengo in qualche maniera a dirlo che la Regione dell'Umbria, penso che possa essere in qualche maniera orgogliosa di essere stata sul fronte sia dell'Assemblea, che anche sul fronte dell'Assemblea, in primis in tutta Italia, a riferimento a livello nazionale per tutta una serie di parametri che hanno portato a diverse revisioni. E lo è stato anche per quanto riguarda il Governo e su alcuni parametri, in particolar modo quello della sanità, e dunque credo che dovremmo fare ancora di più, ma oggi io sono qui in veste di Presidente dell'Assemblea di Stadio dell'Umbria e ci tengo a mettere in evidenza queste cose. Il nostro bilancio oggi ormai è un bilancio di gestione, non è più un bilancio che ci consente di fare cose particolari, perché in qualche maniera il nostro bilancio ci porta sostanzialmente a gestire veramente delle spese del palazzo, delle spese di mantenimento, dunque non abbiamo spese particolari, se voi vedete quelle che sono le spese dei gruppi, anche se oggi i gruppi sono regolamentali dal 174, con parametri sia dei contributi per i consiglieri che anche di iniziative, ma in qualche maniera bastava che si vedessero i gruppi di questa Regione, al 31-12-2012 e vi rendete conto quello che erano, diciamo così, le spese che i gruppi affrontavano e come venivano affrontate. Dunque sono in qualche maniera piccolissime cose, in un momento però di grande difficoltà, che tutto sommato danno la possibilità di poter dire, e io lo voglio dire con serenità e con grande saggezza, ma lo voglio dire che comunque la politica in Umbria è una politica sana. Poi credo che questo lo voglio dire perché sia è una politica sana sia sul fronte della maggioranza che sul fronte dell'opposizione, perché poi questi obiettivi si possono raggiungere solo e esclusivamente se si è ereditato, come io ho avuto la fortuna di ereditare una cultura di governo in questa Regione importante, una cultura di presiedere questa Assemblea importante, e ho ereditato e ho contribuito a portare avanti questa cultura, e ho trovato nelle anche forze di opposizione una cultura importante dove ognuno ha svolto il proprio ruolo, ma l'ha svolto nel rispetto istituzionale, nel rispetto di quei valori e di quei principi che comunque appunto fino adesso ho ricordato e di cui credo che tutti gli Umbri possano andare fieri. Dunque il bilancio dei numeri lo avete in cartellina, il bilancio politico lo ho appena detto, perché poi alla fine, come voi mi insegnate, sono i numeri e i fatti a parlare per noi. Stiamo attraversando un momento difficile, credo che la parte finale del nostro mandato sarà caratterizzata da alcune riforme importanti, tra cui quella della legge elettorale, prima che me lo chiedete voi lo dico io, credo che la legge elettorale oramai, ho un solo rammarico da quello che leggo, e ascolto e in vari commenti, credo che la legge elettorale non sarà votata con un'ampia maggioranza e questa è l'unica cosa che mi dispiace, però noi da legge elettorale dobbiamo in qualche maniera approvarla perché gli Umbri devono avere chiaro quale sarà la nuova legge elettorale. Ci ha un pochino aiutato questo passaggio di portare le elezioni un pochino più in là, di spostarle da marzo sicuramente a maggio, questo ha facilitato un pochino, diciamo così, un pochino un ritardo che va detto sicuramente avevamo, però è anche vero che le leggi elettorali si fanno sempre alla fine in ogni regione perché altrimenti si delegittima sostanzialmente il percorso, il mandato delle persone che sono in qualche maniera in campo, dunque quasi sempre si fanno a fine mandato e voglio anche ricordare che non va dimenticato che comunque la prossima legislatura l'Umbria perderà dieci consiglieri regionali e da 30 noi ne passeremo a 20 e questo è un dato importante e credo che questo dato non potrà che avere delle conseguenze sul piano politico e ha aperto un grande dibattito questo fatto dei dieci consiglieri regionali in meno perché sul piano regionale ha aperto un dibattito fondamentale tra chi era per i due collegi, tra chi per il collegio unico. Io mi sono sempre detto favorevole a un collegio unico regionale perché credo che abbia più la possibilità di rappresentare al meglio l'Umbri considerando che in queste ore a livello nazionale c'è un dibattito per rivedere i confini regionali e mi sembra che quasi tutte le forze politiche, le forze sociali, le forze economiche si stanno tutti affacciando al dibattito dicendo che sono tutti favorevoli non riesco a capire come fa una persona a dirsi favorevole questa è una mia valutazione personale come si fa a dire favorevole a rivedere i confini delle regioni e poi magari a pensare a 20 collegi regionali le due posizioni sono un pochino in contrapposizione tra di loro dunque io su questo sono sempre stato chiaro ho sempre dichiarato di essere favorevole al collegio unico regionale e mi sono sempre dichiarato a rivedere i confini regionali perché credo che per una prospettiva del regionalismo italiano dentro da un confine europeo credo che 20-21 regioni italiane 22 sono cose speciali siano troppe vanno rivisti i confini con la riforma che il Parlamento terminerà a votare che viene rivista al titolo quinto credo che dopo questa rivisitazione del titolo quinto sia giusto rivedere anche i confini quantomeno come dice il Presidente Zincaretti rivedere i ruoli e funzioni e iniziare a fare delle sinergie tra i servizi ecco io concludo dicendo che mi immagino una regione che possa escludere le due città metropolitane che sono al sud di Roma e al nord di Firenze e tutta quella fascia che rimane vuota tra Roma città metropolitana e Firenze città metropolitana possa essere una grande regione diciamo del centro nord e credo che potrebbe essere questa è una mia idea è un messaggio che mi piacerebbe lavorarci e su questo credo che tutti gli Umbri dovranno essere protagonismi per poter realizzare un progetto di questo tipo sono convinto che sia l'istituzione ma che in particolar modo gli Umbri possano avvantaggiarsene da un progetto così importante io mi fermo qua non so se i miei colleghi vicepresidente Stufara Lignani consiglieri segretari Desio e Galanello che voglio ringraziare perché abbiamo avuto cinque anni di grande lavoro c'è stata una grande collaborazione e credo che i risultati che si raggiungono si sono potuti raggiungere per la sinergia e la correttezza che c'è stata all'interno dell'ufficio di presidenza dove ognuno nel rispetto dei ruoli ha dato il suo contributo e credo che abbiamo anche rappresentato in maniera degna l'intera assemblea legislativa voglio ringraziare loro perché credo che sia importante farlo tra cui insomma abbiamo cercato all'interno dell'ufficio di presidenza di abbandonare le diverse appartenenze ma di poter ragionare sempre in maniera istituzionale credo che ci sia alcune volte più alcune volte meno ma ci siamo sempre riusciti e voglio ringraziarli appunto tutti e quattro per la collaborazione che mi hanno dato in questi anni anche anni difficili per me sul piano personale e devo dire e li voglio ringraziare perché sono sempre stati corretti sia sul piano personale che sul piano istituzionale dunque voglio ringraziarli sul piano dell'amicizia ma anche quello istituzionale perché abbiamo sempre tenuto e loro hanno tenuto sempre un comportamento di grande correttezza e su questo ne sono veramente grato io ecco un termino qua non so se da parte dei miei due degli atti prego però prego prego Stufara e poi collega Lignani prego ovviamente il presidente Brega faceva il suo conto diciamo su un profilo istituzionale ma ovviamente e non poteva che essere così ha fatto anche alcune valutazioni di ordine politico io mi auguro che su una cosa non accada quello che invece diceva il presidente mi riferisco alla legge elettorale perché sarebbe un problema grande se la nuova legge elettorale fosse approvata da una maggioranza risicatissima quando si parla delle regole del gioco è bene che queste regole siano il più condivise possibile lo sforzo che va fatto da parte di tutti i gruppi io credo debba essere quello di trovare i punti di convergenza che allarghino il consenso e la condivisione anziché pensare a interessi di bottega che invece determinerebbero quell'esito che il presidente diciamo in qualche maniera ipotizzava che io mi auguro venga scongiurato perché altrimenti credo che sarebbe certamente una norma fatta a favore di qualcuno ma sarebbe una norma che probabilmente non sarebbe fatta a favore della democrazia Gnani brevemente diciamo che quello che ha detto il presidente è quasi completamente condivisibile nel senso che ci siamo difesi dal 95 ad oggi il ruolo del consiglio regionale è venuto progressivamente meno perché diciamo che anche la potestà legislativa formalmente in capo al consiglio poi i grandi atti sono sempre stati di fatto in qualche modo prodotti dalla giunta ma il restauro della governance istituzionale e il risparmio degli assetti è sicuramente un qualche cosa che il presidente Brega prima ha detto e che rivendichiamo fatta su nostra iniziativa senza che nessuno ce la imponesse in maniera differente è chiaro che il prossimo consiglio regionale potrebbe essere anche l'ultimo consiglio regionale dell'Umbria e quindi ve lo dice qualcuno che rivendica la propria identità politica è evidente che un consiglio avventi che dovrà probabilmente quasi liquidare l'Umbria se va avanti questo disegno costituzionale di riordino delle regioni dovrà essere fatalmente un consiglio rivitalizzato nelle sue funzioni proprio perché l'eseguità dei numeri e l'eseguità della giunta non potrà permettere che una coesione per andare appunto a rivedere l'assetto istituzionale quindi è evidente che si andrà verso la fine e questo penso che sia positivo parlo però a titolo personale di un doppio binario legislativo perché il regionalismo italiano ha in qualche modo fallito quindi tutta la legislazione concorrente verrà in qualche modo meno e se viene meno questo è anche giusto che vengano meno funzioni e peculiarità dei futuri macro consiglieri regionali che saranno come dei grandi consiglieri di area vasta amministrativa ma non legislativa ma detto questo e concludo io rivendico e dobbiamo rivendicare lo rivendico come consigliere regionale ma credo che possano condividere tutto questo tutti i colleghi io non ci sto e non cito chi l'ha detto prima di me perché era più importante ma molto differente da me alla criminalizzazione che è in atto anche da parte del governo nazionale della figura dei consiglieri regionali perché quando occorre un parafulmine per poter parlare di qualche c'è qualche cosa che non va parliamo dei consiglieri regionali dei consigli regionali degli scandali questa è una cosa che è inqualificabile perché se responsabilità ci sono non in Umbria e ci sono state ci stanno anche nei gruppi parlamentari che non sono controllati che non sono sottoposti a nessun tipo di controllo e i sacrifici giusti ed equi che vengono richiesti dai consiglieri regionali io credo che all'unisono i consigli regionali devono chiedere che vengano fatti anche dai parlamentari se basta con i vitalizi dei consiglieri regionali è ora di dire basta anche ai vitalizi dei parlamentari se i consiglieri regionali si sono ridotti le indennità è ora che se li riducano congruamente anche i parlamentari anche perché e concludo veramente rivendichiamo l'orgoglio che quasi tutti quasi tutti i consiglieri regionali sono stati eletti a preferenza qualcuno è stato eletto con listino ma vedremo di eliminare questa stortura i parlamentari sono tutti nominati hanno avuto regalato il seggio quindi è bene che vengano ridimensionate le loro prerogative proprio perché sono molto meno rappresentativi di quanto non siano le nostre modestissime figure grazie collega prego due cose una di carattere generale che riguarda un po' il bilancio che si fa in queste occasioni si fa il bilancio addirittura di fine legislatura e quindi in qualche modo si guarda anche a quella che sarà la produzione legislativa ecco la produzione legislativa che il consiglio regionale ha fatto non è un termine con il quale si può misurare l'efficienza delle regioni delle regioni in generale dell'architettura dello Stato cioè oggi noi non siamo in una condizione in cui chi fa più leggi fa meglio forse oggi per il cittadino c'è necessità di fare addirittura diciamo meno conto su una proliferazione legislativa da parte di assemblee tra cui quelle regionali che naturalmente oggi sono molto anche in discussione rispetto al loro futuro per quanto mi riguardi io credo che ci sia anche la necessità di un superamento di quella che è la potestà legislativa delle regioni trovandoci in un sistema in cui il Parlamento europeo fa le leggi il Parlamento italiano fa le leggi le regioni fanno le leggi poi non si capisce bene chi è che dovrebbe applicare queste leggi essendo sul territorio molto ridotte le forze è importante però perché la produzione legislativa del consiglio regionale ha ad esempio lavorato molto sui testi unici su questi testi unici credo che vi sia stato anche uno sforzo da parte di tutti per arrivare a quella semplificazione che da molte parti è richiesta un altro però degli elementi in questo contesto quindi dove come dire l'ipertrofia della legiferazione non ha preso piede è mancata la capacità io lo dico naturalmente anche questo con un giudizio di parte se volete ma insomma la capacità di essere produttori di riforme piuttosto che subire le riforme tutte le riforme da quelle delle comunità montane per passare a quelle che hanno visto in questo momento diminuire talunienti a quelle che riguardano la stessa legge elettorale della quale stiamo discutendo più che altro sono stati percorsi subiti che non percorsi voluti penso a quest'ultimo argomento quello delle macro regioni dove l'Umbria fin dal 1990 e poi successivamente il 95 era stata diciamo così una fucina di idee e anche di confronti rispetto a quelle che erano delle dimensioni geografiche che potrebbero lavorare insieme e che oggi vengono completamente stravolte da quelle che sono altre idee che vengono io francamente di un parallelismo culturale tra Terni e Livorno francamente non penso che ci sia molto da discutere molto molto altro sarebbe stato il ragionamento che è stato portato avanti tra regione dei due mari tra le Marche e l'Umbria un dibattito anche questo che viene calato dall'alto così come è stato calato dall'alto la diminuzione del numero dei consiglieri regionali così come viene calato dall'alto oggi una riforma delle province che abbiamo visto che ha lasciato sul terreno molti più punti interrogativi che altro ecco diciamo su questo forse la regione dell'Umbria e il consiglio regionale potrebbero avere maggior protagonismo questo non è avvenuto anche perché non avevi problemi politici sull'argomento e forse anche il ritardo della legge elettorale che ancora non vede la luce è il frutto anche di una sorta di arroccamento e qui concludo veramente se no diventa una conferenza stampa politica più che istituzionale ma insomma sul fatto che ci fossero degli elementi di incostituzionalità su una legge che prevedesse un premio di maggioranza spropositato rispetto a un sistema bipolare non esiste più non credo che ci sia bisogno di scomodare esperti insomma ecco abbiamo dovuto aspettare gli esperti ma insomma si sapeva e non c'era forse la necessità grazie collega che non perdo occasione per rimarcare sul piano politico le sue differenzazioni però d'altronde ecco perché faranno sempre l'opposizione insomma io lo dico sempre in maniera molto amichiale prego collega Calanello sì una battuta per dire che questa esperienza la prima legislatura che si sono impegnati in questi anni l'ho vissuta con entusiasmo ma devo dire oggi a consuntivo che probabilmente è stata una dei legislatori più difficili della nostra regione sicuramente è la conseguenza di una situazione più generale difficoltà di crisi che ha vissuto il nostro paese e quindi anche la nostra regione da diversi punti di vista da quello economico sociale e politico fino ad arrivare un po' come tratteggiava il collega Lignani un po' l'immagine che è passata delle regioni e di noi amministratori regionali quindi un po' una perdita di rapporto soprattutto nell'immagine che di noi come istituzione ma anche come singoli amministratori passa nella collettività rispetto al giudizio che si dà la percezione che si dà dell'azione della nostra istituzione regionale che è diversa indipendente dai dati perché appunto i dati che stiamo dando sono dati sicuramente importanti e positivi però la percezione cittadina è diversa faccio questa breve premessa solo per un accenno in quanto è stato l'argomento su cui tutti si sono un po' trattenuti della legge elettorale perché proprio questa situazione dovrebbe di percezione dei cittadini verso istituzione regionale ci dovrebbe portare anche a seguito di un prolungamento della legislatura da qui a maggio ci sono anche i tempi per recuperare sicuramente una partecipazione non solo il consenso dentro la maggioranza dentro il consiglio regionale che sono d'accordo sulla legge elettorale deve essere il più ampio possibile ma anche recuperare un consenso ampio nei territori della nostra regione perché credo che la legge elettorale è uno strumento ma sicuramente uno strumento che attraverso il quale passa un'idea della nostra regione per il futuro ma attraverso cui passa anche il come la nostra regione si presenterà a un dibattito già aperto come altri hanno detto sulle macro regioni e qui credo che va fatta molta attenzione perché l'idea dell'Umbria probabilmente non è la stessa secondo dove noi abitualmente viviamo per quanto mi riguarda solo un brevissimo richiamo un'esperienza che viene da un'area territoriale che viva ai margini della regione e dove c'è molta attenzione rispetto a questo dibattito anche sulla legge elettorale perché appunto credo che l'idea dell'Umbria che va recuperata è di un'Umbria più policentrica rispetto all'esperienza di questi ultimi anni in modo particolare e va sicuramente recuperata una condizione per cui l'Umbria tutta in modo fortemente unitario si presenti al dibattito appunto già aperto delle macro regioni quindi una partecipazione forse va recuperata con i territori rispetto alla legge elettorale grazie io concludo poi tanto la parola a voi per dirvi gli ultimi due atti dell'ufficio di presidenza diciamo del 2014 che vorrei tenere in evidenza che riguardano il primo abbiamo disdetto gli affitti per un risparmio di 400.000 euro di Palazzo Monaldi palazzo storico accanto qui a Palazzo Cesaroni che voi vi ricordate negli anni e che all'unanimità abbiamo deciso di dare disdetta e che dunque dalla prossima legislatura il palazzo questo dietro non sarà più anche perché diminuendo i 10 consiglieri regionali non avrebbe più senso noi daremo un ulteriore contributo alla comunità Umbria per una disdetta di 400.000 euro annui di affitto dell'intero palazzo che è qui alle nostre spalle dunque è anche questo un atto importante che lo voglio ricordare perché è un risparmio insomma di soldi pubblici se voi lo moltiplicate nei 5 anni fate le vostre insomma e poi praticamente abbiamo anche la legge dell'ufficio di presidenza che è un adeguamento che poi io ho proposto a livello nazionale che anche l'Umbria ha fatto che è la legge del contributo di solidarietà sui vitalizi anche in Umbria dunque l'ufficio di presidenza ha deliberato in unanimità e ha mandato in commissione questa proposta di legge sul contributo di solidarietà per i vitalizi dunque tutti i consiglieri regionali che percepiscono i vitalizi anche in Umbria saranno soggetti a un contributo di solidarietà con delle tabelle precise se avete bisogno dei parametri chiedete agli uffici non ci sono problemi sono i due atti ultimi che noi abbiamo fatto e che io voglio mettere in qualche maniera in evidenza perché stanno a significare il dato di sensibilità che comunque regna in questa regione sia nella maggioranza che nell'opposizione ultima veramente battuta credo che in questi cinque anni sia stato anche un ottimo rapporto con il governo regionale lo voglio mettere in evidenza perché anche in momenti di difficoltà siamo riusciti ad avere un rapporto di correttezza che ha portato anche a risultati importanti e questo voglio ringraziare comunque sia per la Presidente Marini che per il sottoscritto era la prima esperienza lei con un mandato molto più importante di governatrice io con un mandato molto più particolare quello di Presidente della Regione però nonostante alcuni momenti di difficoltà poi siamo riusciti a raggiungere un giusto equilibrio che credo abbia potuto portare anche dei frutti all'intera regione io mi fermo qua non so se ci sono delle domande se non ci sono domande possiamo prego dottor Sebastiani dell'ANSA innanzitutto per un saluto poi due cose volevo sapere quale considerate l'atto più importante di questi cinque anni e visto che siamo in scadenza quale sarà il futuro del Presidente dell'Assemblea Legislativa al futuro politico grazie sugli atti più importanti rispondo sempre io faccio rispondere ai colleghi io no sugli atti io credo che per una questione degli atti penso che sia secondo me tutti gli atti che ha prodotto l'Assemblea Legislativa sono atti importanti poi logicamente ci sono gli atti di riforma che hanno penso alla riforma della sanità penso che è stata fatta penso alla riforma di alcune agenzie e credo che quelli atti di riforma di questo tipo abbiano una valenza maggiore rispetto a tanti altri però per un rispetto istituzionale credo che tutti gli atti prodotti da questa Assemblea abbiano secondo me una valenza di pari dignità per quello che riguarda il Presidente dell'Assemblea l'ho detto più volte io per quello che mi riguarda ho dato la disponibilità al mio partito per poter essere ricandidato ho sempre detto che la politica si può fare anche in altri ruoli se il mio partito riterrà opportuno di poter ricandidare una figura come la mia che ha sempre rispettato regole leggi ed altro in silenzio e senza polemiche sarò ben lieto di ridare il mio contributo laddove il mio partito dovesse decidere di non optare per questa scelta credo che la politica la possa fare anche in altri modi in altri ruoli e farò le mie valutazioni su come continuare il mio impegno politico insomma prego ci sono tante iniziative insomma se prego sapere se c'è un provvedimento che avreste voluto realizzare in questi cinque anni che vi premeva particolarmente e che però non siete riusciti che inserire nell'elenco che ci avete dato oggi magari facciamo rispondere se c'è qualche collega io no perché sostanzialmente magari io in alcuni atti prima citavo la sanità magari io sulla sanità avevo sempre un'idea che invece di avere due asle due aziende avevo l'idea di avere un asle un'azienda però magari non la pensavo così in alcuni provvedimenti ma per quello che mi riguarda tutti i provvedimenti fatti sia come assemblea legislativa che condivisi con il governo regionale sono tutti diciamo sostanzialmente atti che fanno parte di un programma che si è condiviso sin dall'inizio insomma ecco io particolarmente considerando che faccio parte della maggioranza gli atti fatti sono tutti atti condivisi e pienamente voluti insomma parlando dal punto di vista istituzionale quindi chiaramente voglio parlare di una legge in cui abbiamo dato tutto il nostro contributo dove francamente ci aspettavamo migliori risultati che quella sulla semplificazione perché lo sforzo è stato fatto ma la percezione delle categorie e dei cittadini su questo tipo di procedimento è stata assolutamente insufficiente quindi c'è questo rammarico e speriamo che in futuro si possa da questo punto di vista fare meglio perché la semplificazione amministrativa è una pietra miliare per la ripresa se tu tagli i tempi e i costi sicuramente aziende in piccole imprese attività artigiane ma anche singoli cittadini possono avere più opportunità e una qualità della vita migliore una cosa veloce la legge elettorale quindi c'è una tempistica adesso perché c'è stato un progressivo slittamento poi una curiosità a chi si smette di pagare l'affitto di Palazzo Monaldi allora sulla 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 legge elettorale posso dirti che credo che la commissione abbia fatto un programma credo che la commissione si riveda il 7 o l'8 7 di gennaio so che perché è arrivata anche a me personalmente sono arrivate una serie di richieste di audizioni presumo presumo che mi auguro che la commissione possa entro gennaio votare finalmente una proposta di legge elettorale e diciamo quei primi dieci giorni di febbraio poterla entro diciamo entro San Valentino padrono della città di Terni padrono dell'amore poter in qualche maniera approvare la la legge elettorale per quanto riguarda il tema del dell'affitto personalmente io non so cioè non non so di chi è credo che sia una società poi magari si può chiedere si può chiedere al segretario generale di di sapere veramente non è che non voglio dire proprio non so credo che sia sicuramente una società perché prima era credo dell'INA se non sbaglio poi è stata acquistata da una da una società però io non so chi chi sia anche perché diciamo che di queste cose se ne occupa la segreteria generale e quant'altro ma proprio non saprei dare una risposta insomma però sono atti pubblici basta chiederlo anche perché avendo dato la richiesta di disdetta c'è il soggetto a cui l'abbiamo inviato insomma però credo che sia un proprietario negli anni sia stato un proprietario cioè non è lo stesso proprietario di sempre credo che negli anni sia si è cambiato sì credo che mi sembra che prima fosse stata l'INA non è una persona fisica di questo è sicuro credo che prima era l'INA e poi dopo negli anni si è diventata una società privata però insomma non so chi se sia non so chi se sia